Ti sei mai chiesto se possiedi un dono speciale che va oltre il comune? Hai mai sentito un'intuizione profonda o percepito energie che altri non riuscivano a spiegare? Se la risposta è sì, potresti avere un grande potere spirituale. In questo video esploreremo insieme i nove segni distintivi che potrebbero indicare che possiedi un dono spirituale straordinario. Rimani fino alla fine per scoprire insieme a noi se hai un legame speciale con il mondo spirituale. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. Inoltre, accedi in descrizione all'Accademia di Meditazione e Crescita Personale numero 1 in Italia. E ora cominciamo! 1. Empatia profonda Se senti intensamente le emozioni degli altri e spesso ti trovi ad assorbire le loro energie, potresti avere un dono spirituale. Questo dono è spesso associato a una grande sensibilità emotiva e una profonda empatia. Le persone che possiedono questa capacità sono in grado di percepire e comprendere le emozioni degli altri in modo molto intenso, come se fossero le proprie. Questa connessione emotiva può manifestarsi in vari modi, ad esempio sentendo la gioia, il dolore, la paura o la tristezza degli altri con la stessa intensità con cui queste persone le provano. Questa sensibilità superiore permette di comprendere e supportare gli altri in maniera molto profonda, ma può anche essere una vera sfida. Assorbire le energie e le emozioni degli altri può essere faticoso e talvolta opprimente. È importante imparare a gestire e proteggere la propria energia per evitare di essere sopraffatti. Le persone con questo dono spirituale possono trovarsi naturalmente portate a ruoli di supporto, come il counseling, la terapia, il lavoro sociale o altre professioni in cui l'empatia e la comprensione sono fondamentali. Questo dono può anche essere visto come una chiamata a utilizzare questa sensibilità per fare del bene nel mondo, aiutando gli altri a gestire le proprie emozioni e promuovendo un ambiente di cura e comprensione. 2. Sensibilità all'energia negativa La sensibilità all'energia negativa è una capacità che permette di percepire quando qualcosa non va in un luogo o in una situazione, anche in assenza di prove evidenti. Questa sensibilità spirituale è un segno di una consapevolezza superiore che va oltre i normali cinque sensi. Le persone con questa capacità possono avvertire un senso di disagio, ansia o inquietudine quando si trovano in un ambiente con energia negativa. Questa sensazione può manifestarsi fisicamente, come una tensione nel corpo o emotivamente, come un senso di tristezza o oppressione. Questa percezione è spesso intuitiva e può essere difficile da spiegare razionalmente. Tale sensibilità è un dono prezioso perché ti permette di evitare situazioni potenzialmente dannose e di proteggere la tua energia. Puoi riconoscere i segnali di pericolo prima che diventino evidenti per altri, aiutandoti a prendere decisioni più informate e a mantenere il tuo benessere. Ad esempio, potresti evitare luoghi o persone che emettono vibrazioni negative, proteggendoti da influenze nocive. Per gestire questa sensibilità, è importante imparare tecniche di protezione energetica come la visualizzazione di uno scudo di luce intorno a te, la pratica della meditazione o l'uso di cristalli protettivi. Questi strumenti possono aiutarti a mantenere la tua energia equilibrata e a non essere sopraffatto dalle energie negative esterne. 3. Magnetismo verso individui unici Il magnetismo verso individui unici è una caratteristica che può indicare un'energia speciale. Se persone fuori dal comune, eccentriche o particolarmente creative, sembrano gravitare attorno a te, questo è un segno che possiedi una qualità attrattiva che risuona con chi cerca significato e guida. Le persone con questa capacità attrattiva spesso emanano una sorta di aura che ispira fiducia e curiosità. Questa energia può essere percepita come calda, accogliente e comprensiva, creando un ambiente sicuro in cui gli altri si sentono liberi di esprimere la loro vera natura senza timore di giudizio. Gli individui unici, con il loro desiderio di autenticità e creatività, sono naturalmente attratti da chi riesce a comprendere e valorizzare queste qualità. Questo magnetismo può manifestarsi in vari modi. Nelle relazioni personali potresti notare che amici e conoscenti con personalità singolari sono attratti da te. Queste persone potrebbero cercare la tua compagnia perché sentono che puoi comprendere le loro visioni del mondo e le loro esperienze in modo profondo. In ambito professionale potresti essere circondato da colleghi o collaboratori che sono innovatori o pensatori fuori dagli schemi. La tua energia può incoraggiarli a esplorare nuove idee e approcci creativi. Potresti trovarti in posizioni di leadership o di guida dove la tua capacità di attrarre individui unici ti permette di formare team dinamici e creativi. La tua presenza ispira gli altri a dare il meglio di sé e a sviluppare il loro potenziale. Per sfruttare al meglio questo dono è utile coltivare una mentalità aperta e accogliente che valorizzi la diversità e l'unicità degli altri. Essere un buon ascoltatore e mostrare empatia può rafforzare ulteriormente il tuo magnetismo rendendoti una fonte di ispirazione e guida per chi ti circonda. In sintesi, il magnetismo verso individui unici è un segno di un'energia speciale che attira chi è alla ricerca di significato e guida. Riconoscere e nutrire questa qualità può arricchire le tue interazioni personali e professionali creando connessioni profonde. 4. Sensibilità ai cambiamenti atmosferici Questa è una capacità particolare che ti permette di percepire il cambiamento del tempo o delle stagioni senza bisogno di previsioni meteorologiche. Questa connessione profonda con la natura è un chiaro indicatore del tuo potere spirituale. Le persone con questa sensibilità sono in grado di avvertire i mutamenti nell'ambiente circostante in modo intuitivo. Possono percepire cambiamenti nella pressione atmosferica, nell'umidità o nei venti, spesso attraverso sensazioni fisiche o emotive. Ad esempio potresti avvertire un mal di testa prima di una tempesta, sentirti energico con l'arrivo della primavera o percepire un senso di calma quando il tempo è sereno. Questa capacità riflette una profonda connessione con il mondo naturale, suggerendo che sei sintonizzato con le energie della Terra e può portarti a vivere in maggiore armonia con i ritmi naturali, permettendoti di adattarti meglio ai cambiamenti stagionali e di utilizzare queste informazioni per pianificare le tue attività quotidiane. Per valorizzare questa connessione, puoi dedicare del tempo a stare all'aperto, osservare attentamente i cambiamenti nell'ambiente e praticare attività che ti mettano in contatto diretto con la natura, come il giardinaggio, le passeggiate nei boschi o la meditazione all'aperto. Queste pratiche possono rafforzare ulteriormente il tuo legame con la natura e affinare la tua sensibilità ai cambiamenti atmosferici. 5. Fascino sugli animali Se gli animali sono naturalmente attratti da te, come uccelli, farfalle o altri esseri viventi, è probabile che emani un'energia positiva che essi percepiscono. Gli animali sono molto sensibili alle energie circostanti e spesso sono attratti da quelle che considerano calme, sicure e benefiche. Quando gli animali cercano la tua compagnia, può essere un segno che possiedi una presenza tranquilla e accogliente che li fa sentire al sicuro. Questa energia positiva può derivare da una combinazione di fattori, come un cuore gentile, una mente aperta e una connessione armoniosa con la natura. Gli animali, essendo intuitivi e istintivi, sono in grado di percepire queste qualità e rispondere a esse cercando la tua vicinanza. Questa capacità di attrarre gli animali può manifestarsi in vari modi. Potresti notare che farfalle si posano vicino a te o alcuni animali domestici si sentono particolarmente a loro agio in tua presenza. Anche quelli selvatici potrebbero mostrarsi meno timorosi e più curiosi quando sei nei paraggi. Essere consapevole di questa attrazione e coltivare un rapporto rispettoso con loro può arricchire la tua vita. Passare del tempo in natura, osservare il comportamento degli animali e imparare a comunicare con loro in modo empatico può rafforzare questa connessione. 6. Intuizioni frequenti. Hai spesso intuizioni che si rivelano corrette? Questa capacità di percepire oltre il presente è una guida interiore preziosa che ti aiuta a navigare attraverso la vita con saggezza e consapevolezza. Le intuizioni sono sensazioni o pensieri improvvisi che sembrano emergere senza una logica apparente, ma che spesso contengono verità profonde e accurate. Questa capacità può manifestarsi in vari modi. Potresti avere una sensazione viscerale su una persona che incontri per la prima volta, prevedere eventi futuri con sorprendente precisione o sapere istintivamente quale decisione prendere in situazioni difficili. Le intuizioni frequenti sono segni di una connessione profonda con il tuo subconscio e, in alcuni casi, con qualcosa di più grande, come una saggezza universale o spirituale. Le intuizioni ti aiutano a prendere decisioni informate e a evitare potenziali pericoli, guidandoti verso percorsi che sono in linea con il tuo bene superiore. Questa guida interiore ti permette di vivere con maggiore consapevolezza, facendo scelte che riflettono i tuoi valori più profondi e il tuo vero io. Per coltivare e affinare questa capacità è utile praticare la meditazione, tenere un diario delle tue intuizioni e delle loro eventuali conferme e rimanere aperto e ricettivo ai segnali sottili che ricevi. Prestare attenzione ai tuoi sogni, ascoltare il tuo corpo e creare momenti di quiete interiore può aiutarti a sintonizzarti meglio con questa guida interiore. 7. Creatività senza confini. La creatività senza confini è una qualità che ti permette di esplorare e creare mondi straordinari attraverso la tua immaginazione. Questa capacità di visualizzare e creare è un dono che ti distingue dagli altri, poiché ti consente di vedere oltre la realtà immediata e di dare vita a idee, storie, arte o progetti che sono unici e innovativi. Quando hai una creatività senza limiti, la tua mente è costantemente in movimento, generando nuove idee e concetti. Spesso questa creatività si esprime al meglio nella solitudine dove puoi immergerti completamente nei tuoi pensieri e nelle tue visioni senza distrazioni esterne. In questi momenti la tua immaginazione può spaziare liberamente, permettendoti di creare opere d'arte, scrivere storie, progettare invenzioni o semplicemente sognare mondi nuovi e affascinanti. Questa capacità di creare e visualizzare può manifestarsi in molti modi. Potresti essere un artista, un musicista, uno scrittore o un inventore o semplicemente una persona che trova gioia nel creare e immaginare per il puro piacere di farlo. La tua creatività è una fonte di ispirazione non solo per te stesso, ma anche per coloro che hanno la fortuna di entrare in contatto con le tue opere o idee. Essere consapevole di questo dono e coltivarlo può portare a grandi soddisfazioni personali e professionali. Dedica del tempo alla tua creatività, sperimentando nuovi modi di esprimerti e lasciando che la tua immaginazione fluisca liberamente. Anche se preferisci la solitudine per creare, condividere occasionalmente le tue opere può arricchire ulteriormente la tua esperienza, offrendo nuove prospettive e feedback che possono alimentare ulteriormente la tua ispirazione. 8. Tormenti notturni. I tormenti notturni, come l'insonnia o gli incubi angoscianti, possono essere più che semplici disturbi del sonno. Queste esperienze notturne possono rappresentare un modo attraverso cui il tuo spirito cerca di comunicare con te, offrendoti intuizioni e comprensioni profonde. Soffrire di insonnia può significare che la tua mente è particolarmente attiva durante la notte, quando il silenzio e l'oscurità permettono ai pensieri e alle emozioni più profonde di emergere. Durante questi momenti di veglia potresti ricevere intuizioni su problemi irrisolti, idee creative o riflessioni significative sulla tua vita e sul tuo percorso. Questo stato di coscienza alterata può aprire la porta a una maggiore consapevolezza e a una connessione più profonda con il tuo io interiore. Gli incubi angoscianti, invece, possono essere interpretati come messaggi simbolici provenienti dal tuo subconscio. Questi sogni possono riflettere paure, ansie o traumi che necessitano di essere affrontati e compresi. Spesso, gli incubi portano alla luce aspetti della tua vita che hai ignorato o represso, offrendoti l'opportunità di esplorare e guarire queste parti di te stesso. Anche se possono essere spaventosi, i brutti sogni possono fornire preziose intuizioni e guidarti verso una maggiore comprensione di te stesso e delle tue esperienze. Per trarre il massimo beneficio da queste esperienze notturne è utile adottare alcune pratiche. Tenere un diario sui sogni può aiutarti a registrare e analizzare i tuoi sogni e le tue esperienze di insonnia, rivelando temi ricorrenti. La meditazione e le tecniche di rilassamento possono aiutarti a calmare la mente prima di dormire, facilitando una migliore qualità del sonno. Inoltre, riflettere sui tuoi sogni e sulle tue sensazioni durante i periodi di veglia può offrire spunti preziosi su come affrontare le sfide della vita quotidiana. 9. Sensibilità in mezzo alla folla Ti senti spesso sopraffatto in luoghi affollati? La sensibilità in mezzo alla folla è una caratteristica che ti porta a sentirti spesso sopraffatto in posti con troppa gente. Questa eccessiva sensibilità alle energie circostanti è un segno della tua connessione spirituale, che ti rende particolarmente ricettivo alle vibrazioni e alle emozioni delle persone intorno a te. Quando ti trovi in mezzo a molte persone, puoi percepire intensamente le diverse energie, emozioni e stati d'animo presenti nell'ambiente. Ciò può causare una sensazione di sovraccarico sensoriale, ansia o disagio, rendendo difficile stare a proprio agio in contesti affollati come concerti, centri commerciali o eventi sociali. Questa esperienza è un chiaro indicatore della tua capacità di connetterti profondamente con le energie esterne, riflettendo una sensibilità spirituale superiore. Tale sensibilità, pur essendo una sfida in situazioni affollate, è anche un'indicazione del tuo potere interiore. La tua capacità di percepire le energie sottili ti rende un individuo particolarmente empatico e intuitivo. Questa connessione spirituale ti permette di comprendere gli altri a un livello profondo e di essere un supporto prezioso per chi ti circonda. Per gestire meglio questa sensibilità è utile adottare alcune strategie. praticare tecniche di centratura come la meditazione, il respiro consapevole o l'uso di cristalli protettivi può aiutarti a mantenere il tuo equilibrio energetico. Creare momenti di solitudine e tranquillità nella tua routine quotidiana ti permette di ricaricare le tue energie e di proteggerti dall'eccessiva stimolazione esterna. Inoltre, imparare a stabilire confini energetici può aiutarti a gestire meglio le situazioni affollate, consentendoti di preservare il tuo benessere emotivo e spirituale. E tu? Ti riconosci in uno o più di questi segni? Condividilo con noi nei commenti. Esplora e coltiva il tuo potenziale e ricorda che la tua esperienza può essere di grande aiuto per altri. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. Se ti ha ispirato, lasciaci il tuo prezioso mi piace e iscriviti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per più contenuti come questo. Inoltre, condividilo con chiunque pensi possa beneficiarne e accedi all'Accademia di Meditazione e Crescita Personale che trovi in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.